Facebook e Google si convertono al geotermico. Meta e Google scelgono il geotermico per produrre energia pulita, riducendo l'impatto ambientale delle loro attività. Meta collabora con Sage Geosystems per un sistema geotermico da 150 MW, sufficiente per alimentare 70.000 appartamenti. Google è avanti nell'adozione del geotermico con un impianto pilota da 5 MW in Nevada grazie alla start-up Fervo Energy. Il geotermico offre energia 24 ore su 24 con ridotto impatto ambientale, rispondendo ai crescenti bisogni energetici dei data center.